Su delega della Procura della Repubblica, presso il Tribunale dei minorenni, i carabinieri della stazione di Gran Michele hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale per i minorenni di Catania nei confronti di due giovani di 16 e 17 anni per i reati di rapina aggravata, lesioni aggravate, minacce e porto d'armi o d'oggetti atti a offendere. I fatti che hanno originato il provvedimento cautelare, tre episodi di rapina realizzati anche con violenza sulle persone, sono avvenuti nella giornata del 31 agosto scorso nel territorio della frazione di Marina di Ragusa e in quello di Scoglitti, frazione del comune di Vittoria. Elemento fondamentale ai fini dell'identificazione dei colpevoli però è stata una precedente duplice violenta aggressione ai danni di un giovane extracomunitario 23enne, originario del Burkina Faso, avvenuta a Gran Michele. Nello specifico i militari della locale stazione erano intervenuti mentre i due indagati, con la complicità di un maggiorenne, stavano percuotendo il malcapitato extracomunitario con calce e pugni, proferendogli anche insulti a sfondo razziale e minacce di morte. L'arrivo dei militari aveva interrotto il pestaggio con conseguente fuga degli autori che comunque erano stati riconosciuti e denunciati all'autorità giudiziaria. Quanto accaduto però non sarebbe bastato a placare i loro animi perché quella stessa sera intorno alle 20 avrebbero reiterato l'aggressione nei confronti di quel giovane extracomunitario che a seguito delle ulteriori percosse inflittegli aveva riportato un'emorragia cerebrale. I due minori, in seguito, unitamente a un maggiorenne per il quale si procede penalmente a parte, si sarebbero dapprima recati nella provincia di Ragusa, precisamente nella frazione marina, dove avrebbero strappato una collana d'oro dal collo di un minore, il loro coetaneo, colpendolo con calci, pugni e con l'ausilio di un manganello. La vittima avrebbe poi avvisato dell'accaduto il padre che, messosi alle ricerche dei presunti colpevoli e dopo averli individuati, avrebbe reclamato loro la restituzione della collana, venendo però anche egli malmenato e percosso con quello stesso manganello. Da lì a poco due fratelli di 13 e 16 anni sarebbero stati anch'essi avvicinati dagli odierni indagati, i quali avrebbero intimato loro la consegna dei cellulari. A loro rifiuto li avrebbero minacciati con un coltello e colpiti alle gambe con un manganello, impadronendosi dei telefoni. Analogo modus operandi successivamente è stato riscontrato nell'ultimo episodio avvenuto a Scoglitti, dove tre giovani hanno riferito una pattuglia di carabinieri di Vittoria, intervenuta a seguito di loro richiesta, di essere stati poco prima aggrediti lungo la via Messina da circa cinque giovani, due dei quali avrebbero strappato la collana d'oro a uno di essi che reagendo sarebbe stato colpito con un manganello metallico al capo e minacciato. A seguito dei vari delitti, i comandi carabinieri hanno acquisito le immagini di alcuni sistemi di videosorveglianza, la cui visione ha consentito ai militari della stazione di Gran Michele di riconoscere i due indagati, che erano già conosciuti in quanto originari di quel comune del Calatino. Infine, anche la descrizione fornita dalle giovani vittime sulle fattezze fisiche e sull'abbigliamento indossato dagli autori delle rapine ha permesso di acquisire un preciso e grave quadro indiziario nei confronti dei destinatari del provvedimento.